Allora questa settimana abbiamo giocato questa domenica con la Piovese e la partita non è andata bene perché non siamo riusciti a mettere in campo i principi che abbiamo condiviso col mister fin da inizio anno e in primis non ho giocato bene, tutta la squadra è stata una partita un po' ecco siamo tutti stati un po' delusi da come è uscita la partita perché l'avevamo progettata in modo diverso ma non siamo riusciti ad applicare i nostri principi per l'appunto e la prossima settimana vediamo di darci una svegliata e di allenarci al meglio possibile per poter non fare più questi errori, non giocare più queste brutte partite e testa la prossima settimana grazie 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 grazie